partiti segnifer che rientra dal Sefra contatto Capitan Zanetti Airspace più indietro calmissima Quick Service e l'onora Big ingresso in addirittura con Capitan Zanetti in leggero vantaggio nei confronti di Airspace filtrato per il canzio interno e poi Calmissima che prova ad unirsi alla lotta con Capitan Zanetti che per il momento si mantiene in vantaggio nei confronti di Calmissima che finisce bene in mezzo alla pista Calmissima che sta prendendo vantaggio nei confronti di Capitan Zanetti e Dulest Dream sul traguardo vince Calmissima davanti a Capitan Zanetti al terzo dovrebbe essere Dulest Dream 3-10-1 l'ordine probabile ufficioso per quanto riguarda questa quarta corsa del pomeriggio giudice che nel frattempo richiede la fotografia per il secondo posto, la vittoria però va a Calmissima numero 3 dello schieramento i colori sono quelli di Francesca Turri il training di Marco Gasparini Giuseppe Virdis in sella 3 e 23 la quota grazie a tutti